mmmm 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 ciù 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 allora peru romano mmmm 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 inizia un nuovo giorno è una nuova avventura per noi vieni con noi e noi siamo le tue nuove spie tra mille avventure tra mille risate anche con set e gambo mmmm mmmm Beribis Beribis le api spie in missione per i giro per il mondo siiu sciiu che sono delle ragazze perfette sono delle spie perché eeeh eeeh beribis mmmm ritorno a Parigi Sì, questo testo è davvero difficile, che mi aiuti? Credo di no, furbettina, io lo faccio da solo il test di musica e tu non puoi copiarmi. Tutti possono fare da soli, no? Ok, faccio da sola. Tre ore dopo. Finito. Bene, bravi, complimenti, finito il compito. Finito tutto, finisce qui. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Seth, sei molto bravo più di me, ma credi, non lo copio più Brava, hai capito, beh? Bobby, com'è andato il test? Un mostro, devo chiamare Ringsberry No, ma, sentite, conosco una squadra di superiori che conosco Andiamo Sono, sì, quel genere Sì, sì, Ladybug, andiamocene Questi Ladybug e Chat Noir sono i superiori che sapranno al giusto modo È strano Scappando, che cosa facciamo, Seth? Andiamo Noi siamo le Beridis E conosceremo Ladybug e Chat Noir E salvare Cartoonville Ma, però, andiamo in Francia A Parigi Sono diretti qua Non preoccuparti, Bobby È l'ora di... Beribisco Noi siamo le Beridis Noi siamo le Beridis Intelligenziamo 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 Passiamo 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 E li Direzione Parigi Ho quasi trovato un nemico nei arealtezza ehi ciao ciao che cosa succede qui noi siamo i beridis supereroi spie che combattono il crimine e voi io sono lady bug e lui è chatonard gatto nero grazie con l'aiuto di ticchi e praga ci siamo trasformati noi ci trasformiamo per combattere il mare e voi fermate sempre il nemico di nome papillon ma voi come ti chiamate esattamente il miraculus dai mostri combattete per avere il miraculus sono diretti a parigi dei mostri forse distruggeteli forse ce ne sono tre per i bis per il miraculus andiamo a distruggere quei nemici niente farfarina tripopotere sì e vai ma non avete fermato anche me forse bambini e lola togliete la farfarina a lei mi sono incaricata da papillon di prendere il loro miraculus no mai è il momento di combattere Fatti sotto, Unimoster! Sono fondato, ma lo toglierò un attimo. Sette, ti sprestresti? In verità? Ma certo, Bobbi! Localizzatore, si muove, in spalle! No, no, nooooo! Ciao, ciao Farfallina! Grazie, Peribis! Ma quella porterà indietro sicuramente, è vero? Grazie, torneremo nella vostra città! Vediamo! E ci vedremo, a presto! Ciao, Yomi! Eri svenuta così, ai ragazzi, che non è successo niente! Nel getto di punto! Mm, mm, mm! Ciao, Nicolaudo! Che ci fai? Da queste parti? Ciao! Potessi partecipare con me? Saremo delle tre spie! Diventiamo delle spie! Io e te, Yomi! Ci state? Ci sto! E anche tu, Yomi? Meno di missione! Pronta alla soluzione! Siamo i Berry Bees! Go! Nella prossima puntata e barra episodio delle Berry Bees, le Berry Bees sono tornati al Polo Nord. Chissà che cosa sta succedendo, ma per la prima volta incontrano il Pinguino Paco, assieme a Spike, e divertiranno le nostre apine. E chissà che c'è anche un problema al Polo Nord. Ce la faranno a salvare i pesci di zona? La scoprirete nel prossimo episodio di Berry Bees Go! Beribis, Beribis, noi siamo delle spie. Beribis, Beribis, Beribis. Apine e spie ragazzine, i deli genti della via, beri i frutti di bosco e beri vuol dire api, se siamo amiche e amici insieme, a noi siamo qui, beribis continuano a tantissime nuove avventure con voi, beribis, beribii. E' finita per noi ragazze, e noi ci salutiamo, beribis, ciao ciao!